Bene, siamo di nuovo qui per ricominciare la chirurgia live. Sei riuscita a fare l'anestesia? Ok, allora, iniziamo i tracker. Questa è una vitrectomia 23G in una paziente che ha avuto una occlusione dell'arteria centrale della retina qualche settimana fa, e noi tentiamo comunque. Proprio alla luce di questa presentazione... No. Dicevo, proprio alla luce di una recente presentazione che ho sentito con risultati incoraggianti da parte del collega che presentava i risultati, che presentava la sua tecnica. So, I will perform 23G vitrectomy and in this case of central retinal artery occlusion. This patient has had the occlusion since a few weeks. She can see hands motion. We can observe some reperfusion at fluorescein angiography as often. Devo lubrificare la cornea. Hai l'hydro. Una garza. Quindi le manovre che faremo... So, the surgical maneuver we will perform are vitrectomy and peeling of specific epipapillary membrane which is glial tissue based on the histopathologic results of these colleagues. We will try to stain it to better visualize it with a brilliant pill and lutein with a double dye. Luce. Spegniamo le luci di sala. So, the patient is under sedation and Dr. Alessandro Finzi just performed this sub-teen on anesthesia. We will see if it works. It is still possible to observe the okay altered no, ecco l'illuminazione va meglio adesso. Pigmentation in the fovea with the cherry spot and we can see the vessels which are extremely thin and especially in the arteries you can see that the caliper is irregular. Let's start with trectomy. Let's see the infusion cannula is free. Si. Partiamo a 20. I will try to keep the infusion pressure as low as possible for the whole surgery. I would like to check the presence of the vitreous anyway with the Triumph Sinelon. I'm still using the earthly machine the OS4 in the SPIP mode pump. The SPIP mode is a combination of the Venturi and peristaltic pump to benefit from the advantages of both the control of aspiration and control of flow. So after performing the core vitrectomy I will stain with Triumph Sinelon and then with the Double Dine which is a brilliant pill and lutein to highlight possible membrane on top of the papilla. It's not easy to see now but it was possible to observe it at the OCT. Sarebbe bene far rivedere l'OCT della paziente che è sul mio computer nella presentazione che ha fatto vedere stamattina all'inizio. so the vitre seems to be detached let's check la può vedere il dottor Pinacat è l'OCT della papilla ok allora mi dai il Double Dine so I was suggested to peel the ILM around the optic nerve you can see in the image the OCT image of the epipapillary zone with some hyperreflectant material on top of the papilla and I have to make sure to peel it off starting with the peeling of the ILM in the peripapillary zone Alessandro vorrei che mandassi un messaggio whatsapp al collega al dottor Borse per dirgli che ho iniziato la chirurgia ce la fai so let's wait a few minutes forse l'ho appoggiato fuori sulla vicino alla finestra Hydro si a l'ho appoggiato è meglio se uso la lente a contatto mettiamo venturi per l'aspirazione ecco per l'aspirazione del colorante passo all'aspirazione in venturi che più pronta e non necessita dell'occlusione della punta hai anche il charles mettiamo la lentina no, mettine sulla lente attenzione alla bolla d'aria si vede? non c'è una pinza a due denti come quella di prima ferma guarda che la lente rimanga dritta sì ma comunque ci sto riuscendo a non aprirla se mai te la chiedo grazie a tutti grazie a tutti alessandro mi piacerebbe molto chiamarlo me lo chiami con whatsapp dopo magari lo metti in collegamento diretto grazie a tutti 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 I am staining, I don't know if you heard, I am staining and peeling the ILM around the papilla, as you suggested. Can you see the images in the video? In India. Yes. Tollila. 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 Yes. Hello. Hi. I can't hear you clearly. I am sorry, the line is difficult to keep. Can you see the video? Okay. I am peeling the ILM at the optic nerve. Can you see that? Yeah, let me just come on the streaming and I will just come near the streaming and I will call you back. In two minutes I will call you back. Go ahead. Yeah. 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 E ditemi se le immagini sono chiare. Allora, abbassiamo la pressione, si può a 10. Proviamo. Ecco, con l'Earthly è possibile variare la luce dal giallo al blu. Senza usare un filtro in effetti, forse così è esaltata, mi pare. Prova a cambiare, poi ti faccio il confronto. Torniamo verso il blu. Splishmi bene la punta della pinza. Aspetta perché ho ricolorato, dopo facciamo il confronto. So, the name of the surgery is sheetotomy. So, it means removing the vessel's wall. Ok, ecco. Senti che chiama? Rispondete voi? Senti che... 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 La papilla, la ILM la vedo come... La sento come la vedete, quasi inesistente. mi pulisci bene la punta vado direttamente qui davanti all'arteria alza un po ok sì perché ho certamente tolto membrana attorno ai capillari nuovi che sono formati anche proprio al centro no non posso l'endo qui però sto osservando sì 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 mi dai la pinza vai a 70 mettimi sempre dritta guarda che sia sempre drittissima la lente questa è l'arteria sotto e la vena sopra adesso quella che ho toccato è un ramo venoso di sicuro dammi la pinza ok 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 adesso adesso vai diminuisci piano piano la pressione adesso vai a diminuire piano piano la pressione ferma ok com ok ok Aumenta ancora. 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 Yeah. Aumenta ancora. Anda. Aumenta. 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 One more suggestion from Dr. Borse is to massage the central retinal artery with a tano scraper. So this is what I will do next. I don't see any more blue staining, which I feel comfortable to peel. Abbassiamo lentamente a venti. Sì. All right. mi serve il vitrectomo per rimuovere l'eccesso no perché ne ho tanto sì beh certo che è magica questa cosa di potersi confrontare con i colleghi che ti danno i suggerimenti ti vedono dall'altra parte del mondo veramente bello eh vedi adesso c'è un po' più di staining Tano sì facciamo ancora un po' un gioco di luci virando dal giallo al blu mettila sì allora mi rileggi il messaggio sempre ripetali dunque questa è l'arteria dal riflesso e questa è la vena sopra aiutami con un asciughino a tenere la lente su è difficile tenere il fuoco perché devo tenere la pressione bassa occhi no che glielo faccia sul dottor Cardillo intanto si fa vedere dal centro alla periferie actually the tano scraper helps removing also some epiretinal tissue I hope I'm performing the maneuver in the right way because it is a new maneuver for me as well I have the vein on top so I cannot really massage the artery maybe in the other direction as well oh the patient moved he chiede anche when should I stop is there a sign no no yeah I'm dr. Borsi calling from India yes hello may I speak online to Barbara yes this is it it's me yeah Barbara yeah you have opened up the artery so I think you can just leave it on hypotony eye and I think it will open up no problem it's done fantastic about oh thank you thank you so much because it is tough to understand when surgery is over I am at 10 millimeter of mercury now this is without infusion yes ok ok if I understood correctly he said to stop right yes yes thank you now you can give the eye at around five or six hypotony yes and in a day or two it will be perfect it's a now I am without infusion yeah it is fantastic thank you so much so I will send you the results in a in the next weeks ok fantastic please do thank you so much you've been great to call me it's been a fantastic experience thank you thank you Barbara how do you like the procedure thank you bye bye ok finisco la chirurgia periferica e ho finito si mettiamo l'hydro beh e qui si tratterà di capire nelle prossime settimane certamente la tempistica è importante se i pazienti vengono subito si qui adesso non serve fare una chirurgia estesa però voglio accertarmi della presenza di lesioni regmatogene mi dai qualcosa per indentare non ci sono state complicanze che pressione abbiamo ancora bassa lasciamola a 10 se anche è la più bassa che c'è si può andare anche più bassi quindi devo lasciarlo un po ipotonico allora voglio una bolla d'aria poi comunque lo lascerò ipotonico cioè con la con il vitrectomo vai vai a 30 ma tanto poi lascio lo lascio ipotonico vai ah è difficile dire se sembri più o meno perfusa di prima ovviamente però non credo che si possa determinare intraoperatoriamente non possiamo fare una angiografia intraoperatoria insomma quindi vedremo nelle prossime settimane metto l'aria solo per facilitare la chiusura delle sclerotomie ok possiamo chiamare il prossimo ok 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 grazie ecco ecco benissimo 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 Emanuar dal Kuwait ci ha chiamato benissimo ok fine speriamo adesso speriamo Garza ok grazie grazie This is the end of this experience with life surgery. It was extremely exciting. It was beautiful to ho avuto la possibilità di parlare live con un collega in India che mi ha suggerito come fare meglio la mia surgery, è molto interessante, quindi ringrazio YARVO per l'IONIX tool, questo smart recorder che può collegare l'operazione microscopica con ogni spot in the world. I thank the colleagues who watched the surgery and who gave me any suggestion and I thank Earthly for the opportunity to perform surgery with their machine and the new tech here in Italy. It's been extremely exciting and I hope you will enjoy watching at it, leaving comments and exchanging ideas with me through email at parolinibarbara at gmail.com. Thank you and I promise that I will upload the images of the patients in the next day just to allow you to see the follow-up. Thank you, bye bye. you you